Comune di Fano, si avvisa la cittadinanza che a seguito dell'ordinanza numero 23 dell'11 settembre 2024 si effettuerà la disinfestazione nella mattinata del 12 settembre dalle ore 2.30 alle ore 6.30. Si raccomanda di chiudere le finestre e tenere in casa gli animali domestici. Dopo il caso di dengue a Centinerola dove nella notte è stata eseguita la disinfestazione sono stati segnalati altri possibili casi dove il sindaco e quali provvedimenti verranno adottati. Nella giornata di ieri pomeriggio ci è stato segnalato questo caso accertato a Centinerola dove la persona era stata in campeggio in Umbria e ritornando a Fano aveva avuto questi sintomi e pertanto abbiamo fatto immediatamente l'ordinanza, 24 ore l'abbiamo fatta subito e abbiamo fatto anche la disinfestazione questa notte. Invece questa mattina mi è arrivata un'ulteriore comunicazione da parte dell'Ast di Pesor Urbino che mi dice che ci sono altri possibili casi localizzati a Vallato e in via Lebozzi e quindi ci invita a una disinfestazione di tutta l'area urbana. Pertanto ho appena emanato un'ordinanza in cui da questa notte se le condizioni meteo ce lo permettono abbiamo già individuato la ditta che inizierà la disinfestazione ad Uticida in tutta l'area urbana. L'area urbana individuata dal comune di Fano è quella del perimetro urbano quindi per capirci partendo da nord da Gimarra verso il centro storico il perimetro è quello che di fatto è a est dell'autostrada compresa naturalmente la frazione di Centinerola dove è stato individuato il caso ieri e a sud fino ad arrivare al fiume Metauro quindi questa è l'area per la quale da questa notte per tre giorni consecutivi salvo eventuali condizioni meteo avverse inizierà la ditta ad effettuare la disinfestazione. E come ieri entrerà in azione anche la protezione civile? Sì, da questo pomeriggio ho attivato il COC visto che i casi non sono uno ma più di uno e abbiamo attivato il CB Clématei, la protezione civile che ringrazio per avvisare la popolazione di questa disinfestazione che effettueremo negli orari notturni dalle 23 alle 5 e mezza di mattina quindi chiediamo collaborazione da parte dei cittadini di tutte le zone interessate anche di tutto il resto della popolazione mi viene da dire perché è chiaro che insieme possiamo veramente abbattere questa presenza della zanzara tigre nella nostra città a mio avviso dal prossimo anno dovremo ragionare per prevenire questa situazione mesi e mesi prima non purtroppo quando già il proliferare della zanzara tigre è esploso ma a marzo, aprile, massimo maggio quando si crea la proliferazione delle zanzare questo non è mai avvenuto in questi ultimi anni, compreso quest'anno noi quest'estate siamo intervenuti quando i cittadini ci segnalavano delle situazioni di emergenza però è chiaro che dal prossimo anno dovremo sicuramente rivedere tutta la pianificazione della zanzara tigre si raccomanda di chiudere le finestre e di tenere in casa gli animali domestici